Mi è arrivato un pacco piccolino però secondo me sostanzioso molle però vabbè ci accontentiamo lo stesso lo apro con delicatezza perché non so se è quello che penso io è proprio quello che pensavo io grazie di cuore bamboline air ti amo alla follia vediamo che cosa c'è dentro qui troviamo la cuffietta per madonna con questo sembra nuovo sotto e la cuffietta da mettere sotto alla parrucca poi troviamo silicone che cazzo è sta cosa va molle sembra tipo silicone bello e squish non so che cos'è questo ed infine troviamo lei quant'è leggera questa parrucca allora questa qui a differenza dell'altra dovrebbe essere tipo dovrebbe essere tipo sintetica però alla base sempre super naturale guarda qua che meraviglia questo qua poi è da ritagliare tutto ma quanto è leggera madonna vabbè dimmi se poi vuoi la parte 2 per vederla indossata perché io riccia così non mi sono mai non mi sono mai vista meglio di alcune zocco la red carpet bella bella